Più 30%, a tanto, ammonta l'incremento del turismo a Pineto per la stagione estiva 2015 rispetto ai dati dell'anno passato. Si tratta di un dato estremamente importante, frutto sì del tempo splendido e di condizioni particolarmente favorevoli che si sono avute quest'estate, ma anche di una programmazione turistica studiata sin dall'inverno scorso che ha cominciato a portare i primi frutti. Ha commentato con soddisfazione il sindaco Robert Verrocchio. Il dato è emerso attraverso una proiezione basata sui dati di un campione di strutture turistiche e commerciali della città. In attesa dei dati complessivi della regione abbiamo già in mano dati oggettivi che vedono Pineto andare oltre all'aumento già consistente del terramano, ha aggiunto il sindaco. I numeri parlano di aumento costante delle presenze turistiche, sia straniere sia italiane, sin dei mesi di maggio e giugno. Sta funzionando il lavoro portato avanti insieme alle tante associazioni di Pineto, tra cui quelle di categoria e con l'AMP, ha spiegato il sindaco Verrocchio. Grazie ad una bellissima collaborazione con queste associazioni e ad una programmazione attenta, siamo riusciti ad attrarre i vacanzieri sin dal mese di maggio, attraverso la Dunata Nazionale e gli Alpini, sia giugno con i tanti eventi sportivi, tra cui il meeting del ciclismo organizzato dalla Cerrano Outdoor. Ha funzionato anche l'aver programmato il nostro calendario degli eventi già nel corso dell'inverno e siamo riusciti a far trovare una città pronta ad accogliere i vacanzieri sin dal primo maggio, anche attraverso gli eventi legati alla nostra gastronomia tipica. A questo punto lo sguardo è già al futuro. Ovviamente non ci dobbiamo e non ci possiamo accontentare perché Pineto deve diventare un punto di riferimento dell'intera costa adriatica, ha aggiunto il primo cittadino. A breve sono fiducioso che avremo la partenza del Parc Adventure, asset strategico che saprà attrarre turismo familiare quasi tutto l'anno, mentre stiamo per approvare il Via Libera a nuove strutture turistiche, cosa che non avveniva da anni, che aumenteranno la capacità ricettiva e che potranno differenziare sempre di più l'offerta. Dobbiamo puntare sempre di più sulla qualità, che significa scommettere sulla cultura, sull'ambiente e sullo sport, perché in pochi possono vantare le nostre location e le nostre bellezze naturali. Molto importanti sono state anche le iniziative che stanno facendo rinascere Mutiniano, perché il nostro interesse è verso il borgo antico, strategico e non di forma. Dobbiamo mettere a sistema le tante attività promosse sul territorio da giovani ed associazioni per offrire un pacchetto completo ai turisti e per creare davvero una vacanza attiva. Ci sono ovviamente aspetti su cui bisogna intervenire, uno su tutti il problema è l'erosione a Villa Ardente, ma la direzione imboccata alla Pineto è quella giusta.